Ciao ragazzi, benvenuti nella rubrica le pillole del bomber. Vi porterò con me in palestra per eseguire alcuni semplici esercizi per tenersi in movimento e restare in forma. Oggi ragazzi vediamo il leg curl, un esercizio in cui andremo a lavorare sul bicipite femorale. Particolare attenzione sulla posizione delle ginocchia, quindi le mettiamo vicino al fermo e mi raccomando schiena diretta. E anche oggi per le pillole del bomber è tutto, rimanete attivi e continuate a fare movimento.